Salve a tutti ragazzi e benvenuti al mio primo video tutorial, sono io Gigi97, GioGatta97 che vi insegnerà tre piccoli effetti che un mio amico mi ha fatto richiesta richiesta, è stato un ricatto, vabbè e allora, in pratica, scusate se mi sentite così però sono un pochino raffreddata comunque gli effetti in questione sono il primo e... dovrebbe essere indietro, indietro indietro ecco, questa... l'ho presa, questa scritta che cade in giù ok l'effetto in questione è una cosa abbastanza elementare innanzitutto apriamo il nostro caro Sony Vegas poi andiamo su Media Generators e andiamo a cliccare su Titles e Text e qui troviamo queste varie funzioni scritte che si muovono alla ceca di qua, di lei, eccetera, eccetera ok e quella che dobbiamo prendere è questa qui, Fall Down che in inglese letteralmente significa cadere, vabbè la prendiamo ok ok di quel momento noi non dovremmo fare niente cioè già fa tutto da solo manco c'è bisogno però è giusto per spiegarvi alcune cosine, nel senso mettiamo il caso io scrivo ecco, se voi farete così noterete che la scritta non cambia quindi dovete... dovete metterci a scritta... insomma, dovrete evidenziarlo e scegliervi la vostra scritta oh, mazza che schifo questa dai, dai voglio... wow, proprio sexy questa scritta no, 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 no ahhh cioè io ho scritto chiaramente Alien e questo non mi mette Alien un genio, il mio computer oh ok e volendo, poi qui potete fare un sacco di cose per esempio potreste creare vediamo potreste creare volendo un'ombra potete spostarla insomma, fate quello che vi pare e piace volendo, se voi per esempio volete che duri poco per esempio, questo momento quanto dura? no, chi ti ha detto di aprirti? dura 10 secondi ammazza quanto è lungo e volete per esempio che finisca in meno di un secondo per esempio, mettiamo il caso per via di una scena se ne volete fare un po' di teaming cliccate col tasto destro la scritta cliccate su Velocity no, scusate cliccate su Insert, Remove Envelope scusate, è la mia pessima pronuncia in inglese e cliccate su Velocity e qui lo mettete al massimo però o meno lo regolate perché questo simbolino è la fine che in pratica finisce l'effetto e poi in caso ricomincia e lo accorciate e si vedrà lo stesso effetto leggermente più veloce ovviamente Sony Vegas non ci fa vedere un tubo Sony Vegas sempre collaborativo ok, questo era il primo il secondo effetto a richiesta questo è meglio se ce lo lascio sarebbe questo qui dove è caspio? ah, eccola qua no, avanti, avanti, avanti ecco vedete che in questa immagine c'è un leggero sdoppiamento perché questo è blu questo è rosso ok in realtà vi vorrei insegnare questo effetto però quando l'ho fatto in quel video non conoscevo che in realtà si poteva fare un altro modo perché io stupidamente credevo che per fare una cosa del genere questo specie di effetto tridimensionale bastava fare così che se prendiamo un'immagine un video va bene si duplicava e in due si metteva screen insomma dove c'è questo piccolo quadratino con su scritto A alfa si metteva screen e si mette nelle prime due nel terzo non si mette andavo su dove? channel blend channel blend e ne prendevo uno rosso e lo mettevo sul primo e uno blu e lo mettevo sul secondo e poi andavo su event pan crop del primo e lo spostavo leggermente stessa cosa per il blu lo spostavo dall'altra parte e poi con event pan crop mettevo un quadratino e lo muovavo dall'altra parte e veniva una cosa del genere ora noterete che è una schifezza perché in effetti io dopo un po' di tempo ho notato che l'effetto tridimensionale non c'è cioè mi dà una cosa viola non si nota l'effetto dimensionale e quindi voglio insegnarvi una cosa decisamente migliore però vorrei dare una piccola avvertenza se lo userete tutto il resto del video sarà leggermente un po' grigiastro però non vale la pena allora dovete no dovete andare su project media ah no non era necessario vabbè oppure si ah si dovete andare su no vabbè andate dove cavolo vi pare nella zona dove di solito salvate i video vicino a render as c'è questa freccina dove si dovrebbe regolare la visuale del video ci cliccate come si chiama ah si project properties e dove c'è scritto stereoscopic 3d mod invece di off cliccate se lo volete rosso e blu proprio come al cinema red e shine se invece ci cliccherete green e magenta sarà verde e viola tipo ok cliccate apply ecco notare che già l'immagine è leggermente ma proprio leggermente quasi non si nota vabbè e poi ok ok poi andiamo su video effects e clicchiamo stereopic 3d vattela pesca fumato ok lo mettiamo nel video e noteremo se noi spostiamo questo qui il di pochissimo ecco notare come già è un po' più tridimensionale destra sinistra dove vi pare notare come cioè qui all'improvviso se voi mettete un effetto sarà il doppio infatti se ci metto color curves è il primo effetto che mi viene in mente ecco ne segna due se voi ne levate uno che fregature a me fa tipo tutto rosso tutto blu vabbè insomma vi vi si multiplicheranno gli effetti insomma e come ho detto prima se voi ci ritornate invece mettete red e shine mettete green e magenta fate apply ecco vedete l'effetto sarà di verde e magenta va bene e infine l'ultimo effetto che vi vorrei far vedere vi vorrei qual era ah imbaka non ricordo l'ultimo effetto ah si si ora mi ricordo questo è un effetto che ho usato in due dei miei video dove vabbè questo mi viene più a porto di mano no no ah eccolo lo vedete questo pavimento ecco vi insegnerò come farlo e no non ce l'ho il tempo se non vi avrei insegnato anche come fare questo piccolo effetto specchio però la richiesta era esplicemente come fare questo specchio di pavimento ok allora innanzitutto va bene lo sfondo bianco ce l'abbiamo già ora dobbiamo prendere questa texture magari ve la carico su sense space così poi ve la prendete va bene eccola qui ah ok adesso io non ricordo come facevo ah si io uso chroma keyer lo metto proprio direttamente bianco e poi con il vampire crop lo metto a schermo intero se dici no ok ora qui dove c'è scritto alfa il nostro caro alfa dove mettere 3d source alfa prima di tutti e poi cliccare questo track motion qui ok e da qui noi possiamo roteare la nostra immagine ecco ah si quella succede perchè c'è ancora sto effetto non vi preoccupate non succede niente un momento ce lo levo che mi da fastidio perchè a me da fastidio ok no ah ecco cosa sto facendo ah si ecco lo roteate così e lo abbassate vabbè io lo ingrandisco di solito no no non si ingrandisce così io mi dimentico sempre come si fa a ingrandire ok fatto e così abbiamo questa specie di pavimento dove poi volendo ci mettete la vostra scritta fatto e poi se ah ce l'ho il tempo ok e se volete fare l'effetto specchio basta fare così adesso questo lo mettete in verticale cioè cliccate il tasto adesso cliccate flip vertical e lo mettete giù guardando bene ok ragazzi questo era il mio video tutorial ah no basta poi abbassare questo va bene ok questo